ciao a tutti benvenuti in un nuovo video recensione on the road ma prima di procedere sigla ciao a tutti benvenuti in un nuovo video recensione on the road di un di un salone appunto di parrucchieri che ho avuto l'occasione di frequentare oggi dopo mesi appunto di quarantena innanzitutto parto dal dal dire mi sono tagliate i capelli non ho fatto nulla il colore perché il colore quello è rimasto quello di mesi fa perché come avevo previsto io i capelli erano rovinati e quindi ho dovuto dare una bella spoltita alle punte e ho deciso io il taglio vi farò vedere appunto il taglio che ho fatto vedere al parrucchiere vi posterò tutte le foto non mi ho fatto un blog del mio percorso verso il parrucchiere e per quanto appunto le situazioni erano delicate all'interno non era proprio il caso di filmare quindi ho deciso semplicemente di raccontarvi la mia esperienza anche per farvi capire appunto le misure che sono state adoperate per questa situazione del covid innanzitutto da noi nella nostra zona ci sono tanti tanti parrucchieri che vanno dai cinesi a appunto i saloni in franchising più rinomati tra cui anche jean louis davy io ho scelto semplicemente sulla base di quello che ho visto ho visto subito che avevano preso delle misure igieniche che mi rispecchiavano la compagnia della bellezza di luca galli partiamo dal fatto che avevano dei divisori per quanto riguarda le postazioni shampoo hanno prodotti di altra qualità tra cui anche quelli di origine vegetale i botanea di l'oreal perché appunto le tinture vegetali professionali sono diventati i nuovi il nuovo orizzonte appunto della colorazione per capelli io non ho fatto nulla il colore dei capelli domani farò il mio solito caramello però lo faccio a casa per ora per i 40 anni mi regalerò botanea di l'oreal che appunto una colorazione vegetale a base di n n e di vari mix di erbe tintori che vanno dalla cassia all n all indigo e quindi rappresenta tutto quello che per ora sto utilizzando io e sono molto molto curiosa di vedere che effetto farà una tintura professionale vegetale applicata su di me le cosiddette terre come le definisce un salone molto famoso che le adopera da anni ma da poco nei franchising sono state adottate anche queste nuove tinture vegetali e hanno anche una linea senza ammoniaca che è i nuovi l'oreal che io adoro e stra adoro per quanto riguarda la colorazione per i capelli costano un po di più però la qualità appunto dei prodotti è eccellente mi hanno fatto un trattamento ristrutturante ho dovuto aspettare tanto questo è stato il primo tra virgolette contro di tutta la situazione ho dovuto aspettare veramente tanto il problema non era tanto aspettare perché pure comprensibile sì è un contro ma che a tutta la mia comprensione in quanto se ti viene facevano entrare uno alla volta misuravano la febbre poi praticamente ti davano l'autorizzazione entrare e dovevi lavarti le mani con l'igienizzante a base di alcol e ammoniaca quindi praticamente è a mucchina quindi praticamente ci voleva ci volevano ci voleva tanto tanto tempo e a parte questo insomma considerate che sono saloni frequentati quindi il tempo che entra e fa la fila una persona il tempo che servi la persona precedente eccetera c'è voluta un'ora prima che mi servissero e questo è anche comprensibile hanno tutta la mia comprensione secondo disagio voi sapete che appunto quel problema è il reni e non ho potuto bere bicchieri d'acqua perché lo proibiscono proibiscono di servire qualsiasi tipo di bevanda devi devono operare con te con la mascherina e loro con la mascherina quindi credetemi non l'invidio per niente li capisco benissimo nel senso che è in questo momento fare questa professione che è la cura del capello la cura dell'estetica in queste condizioni è veramente veramente difficile però mi è piaciuto tantissimo il risultato del capello perché il trattamento ristrutturante l'ha veramente rinnovato inoltre avendo tagliato le punte veramente il capello sembra più sano il taglio mi piace tantissimo è stato fatto in modo professionale in modo geometrico senza appunto mozzarmi tutto il capello quindi mi è piaciuto veramente veramente tanto è stato fatto con pochi semplici dettagli che fanno capire la professionalità del parrucchiere e sono che dire sono soddisfattissima di questo risultato mi piace perché mi hanno lasciato proprio il colore che faccio di solito io me l'hanno lasciato con questo effetto bellissimo chatouche sempre più naturale quindi top mi sono trovata benissimo ragazzi sicuramente se questi due contro ve li ho evidenziati non sono contro dovuti al salone di parrucchiere in questione ma sono dovuti alla situazione difficile che stiamo vivendo considerate che io mi sono dovuta aggiustare appunto la mascherina nelle orecchie più di una volta loro lavoravano veramente in condizioni difficili dovendo seguire più di una persona quindi ogni persona che passavano dovevano cambiarsi guanti dovevano lavarsi le mani tutto quanto e devo dire che si sono comportati veramente veramente in maniera professionale perché avevano tutti gli impianti di sterilizzazione a caldo proprio a caldo in modo da bruciare qualsiasi forma virulenta e bruciare qualsiasi batterio la regola era proprio di mantenere una certa temperatura di calore nello sterilizzare bicchieri per quanto riguarda i bar strumenti appunto da parrucchiere per quanto riguarda i saloni di bellezza quindi loro proprio l'hanno rispettato al massimo e questa cosa gliela riconosco certo ora sapendo che loro non possono servirti l'acqua mi porterò la bottiglietta io la prossima volta per utilizzarla per uso personale proprio perché non non li voglio mettere in situazioni di difficoltà però il risultato c'è mi è piaciuto tantissimo non vedo l'ora di provare questa nuova frontiera della colorazione naturale fatta da loro per il mio compleanno dei 40 anni me la regalerò quindi sarà una bellissima esperienza con questo ho fatto la mia recensione vi farò vedere le foto del prima del dopo e con questo vi saluto mi raccomando prendetevi cura di voi stessi ora sì che potete andare dal parrucchiere ma mi raccomando mantenete le distanze cercate di non fare troppi assemblamenti se uscite ma soprattutto non dimenticate di starmi bene grazie a tutti